Musica Good morning Vietnam e bentornati sul mio canale oggi siamo tornati con Shadow War l'ombra della guerra andiamo subito a fare una bella missioncina intanto qua non la trovo dove cazzo sta come sa che sta su un'altra mappa, no eccola qua, eccola qua pioggia di frecce allora facciamola subito partire ragazzi quando ci stanno questi filmati d'intramezzo io non parlerò vi faccio seguire la trama cosa vuoi vedere mina siti il sana e salva oh come sei altruista nient'altro abbiamo visto eventi preoccupanti l'altra volta vero voglio sapere cosa accadrà con il Nazgul attento a quello che chiedi Ramingo le profezie che portano tormento noi prenderemo la città all'alba sottomettiti al tuo destino so cosa temi Dahlion la visione di Shelob non è scolpita nella pietra il re stregone che cosa? è il potere della dominazione l'anello asservisce elementi degli uomini cosa possiamo fare? serviranno dei sacrifici molti periranno ma dobbiamo attenerci al nostro fine a qualsiasi costo comunque dicevo nei filmati evito di parlare almeno voi seguite bene la trama e non vi distraggo insomma che qua dovevamo raggiungere Baran eccolo qui vai namo spaccamoli porca mignota ok anche per questa cosa qua le missioni di intramezzo quelle dove di ammazzare 10 di quelle 10 di quell'altra non è che ve le faccio vedere tutte sennò il video mi diventa veramente veramente troppo troppo lungo perfetto ultimo arciere ucciso adesso dobbiamo raggiungere il punto d'osservation e poi in teoria dovrebbe partire la missione eccoci qua convoca i gondoriani i gondoriani pare tipo un biscotto un cioccolatino boh il delizioso aroma della paura degli umani non c'è nulla di più dolce insieme schiaccieremo le loro difese e le loro difese te piacerebbe insieme capitanio guarda quanti cazzo so noi otterremo la vittoria uniti assalteremo la città non te lo lascerò mai fare spacchiamoli ok adesso però come cazzo faccio ce ne so troppi attento shagal più folla è già morto quindi ottimo così vediamo un po' il capitano eccolo qui ecco già mi ha visto io ve l'ho fatta attacco furtivo le spalle e non ce l'ho fatta ottimo ok congelato scendiamo con attacco dall'alto preso preso abbiamo tolto un quarto di vita dai cazzo però quando è così ce l'ha tutti addosso oh che bello giustiziato il dug o duds dug come cazzo si chiamano è stato decapitato ok ah è inifu con il capitano quello giallo male 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 intanto vogliamo setar cazzo questi purtroppo quando siamo a livelli bassi ancora non abbiamo tutte le skill sbloccate una cosa o l'altra siamo leggermente più lenti a ammazzare i capitani nemici non poi riusciamo a giustiziare niente seppure è un ferocito maledetto poi è un ferocito da cosa non l'ho capito non m'ha detto il motivo della sua ferocia e mori porca mignotta dai un po' niente oh che cazzo decapitato pure lui e ma adesso manca il capitano principale dash profumo depulito ok dash il senza cuore che lo troverete presto nei supermercati a 4 euro e 50 è morto bella caccia bella caccia a capelli a mirofono afro ma chi te se in cula perfetto è troppo troppo arrogante sto celebrimbor boh messa un po' sul cazzo ultimamente era leggermente diverso sull'ombra di mordor è ciò che potrebbe salvarci tutti boh se n'è pure andata a posto maledetto zoccolone argentato perfetto adesso c'è un'altra missioncina misanile sull'urlo della sconfitta scelgo potrebbe essere d'aiuto ma a che prezzo ok la porta del traditore andiamo un po' intanto siamo tornati da lei come al solito regà vi lascio al video lo so se davvero conosci il destino di saura dici il suo punto debole così possiamo sconfiggerla la tua visione è limitata io non desidero altro che vederlo patire o implorare davanti a me ma i miei occhi seguono soltanto il fatto della terra di mezzo allora ridammi ciò che mi hai rubato e io ti porterò saura in catene è ottimista e perché dovrei farlo fabbro tu e sauron siete uguali è questo che cerchi capricci e indovinelli lei non è nostra alleata di certo non tua vieni talion guarda con i miei occhi guardami le tette la loro sconfitta viene da dentro da dentro che vuol dire da dentro a Minasitil c'è un traditore azzope ma chi non le credi ma chi con che voce di merda le sue visioni si avverano sempre l'abbiamo visto entrambi allora Minasitil combatte una guerra su due frutti male 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 quindi regà niente c'è un traditore a Minasitil ecco e dobbiamo seguire il messaggero senza far scattare l'allarme ok abbiamo seguito il messaggero vediamo un po' se salgo qua sopra ok perfetto spezza uomini si chiama questo non gli ho detto niente del traditore lo giuro porca mignotta l'ha tagliato in due con lo scudo minchia mai parlare apertamente del traditore che questo miserabile globe morto sia ad esempio a tutti quanti voi tacci de pippo regà che sento solo sussurrare la parola traditore farà una brutta fine male 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 sconfiggi il comandante ok però aspetta ci sono troppe guardie qua quello che hanno i due dragni vediamo un po' in teoria si riesco a trovare un punto per attaccarlo meglio però mi sa che è meglio qui ok loro vanno verso il ragno cioè verso i ragni quindi potrei sfruttare quei barili lì giù per farli esplodere vediamo un po' boom quanti ne saranno rimasti in vita uno uccidiamolo ottimo adesso concentriamoci sul comandante quanto l'odio che si appiccica ovunque questo tipo assassin's creed ogni volta si appiccica sulle pareti e te impalli così questo è blu sotto quindi presumo che sia leggendario un comandante leggendario maledetto paura delle esecuzioni però noi facciamo l'attacco quello speciale di talion ok confuso interroga il comandante non è questa la voce del comandante però ma chi è questo potrebbe essere qualche Nazgul de merda è opera del re stregone ah il re stregone maledetto dobbiamo riprenderci il mio anello e lo faremo ma prima dobbiamo occuparci del traditore a minaciti non vedo l'ora di prendere sto cazzo d'anello ma che cazzo si mette pure accantato progiu andiamo bene andiamo proprio bene comunque io penso che il video può terminare qui siamo quindi giunti in dirittura d'arrivo ragazzi io i gameplay li strutturerò in questo modo come vi ho fatto ora adesso non vi faccio vedere le missioni di tramezzo vi faccio vedere soltanto i punti principali della missione in più vi farò vedere due missioni principali a video e così via fino a fine gioco la prossima battaglia sarà l'arena quindi ragazzi io vi saluto e vi ringrazio forse no basta lascia mi piace iscrivetevi al mio canale e bella a tutti qui